Italian già, başlangıç seviyesi 2, lütfen io olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Si prega di non dimenticare di iscriversi e come il video. Elma yemek yedir. Apple è buono da mangiare. Apple è buono da mangiare. Süd içmek senin için yedir. Bu okul çocuklarla dolu. Bu resimde ne var? Cosa c'è nella foto? Cosa c'è nella foto? Bu iyi bir fikir. Questa è una buona idea. Questa è una buona idea. Ben bir kızım. Sono una ragazza. Sono una ragazza. Ben çocuk değilim. Non sono un ragazzo. Non sono un ragazzo. Siz öğrenci misiniz? Sei uno studente. Sei uno studente. Kimsiniz? Tu chi sei? Tu chi sei? Kaç yaşındasınız? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Neredesin? Dove sei? Dove sei? Benim babam bir doktor. Mio padre è un medico. Mio padre è un medico. Anni medde. Mia madre è a casa. Mia madre è a casa. Chi è quell'uomo laggiù? Chi è quell'uomo laggiù? Sekiz yaşındayım. Ho otto anni. Ho otto anni. Çok so. Fa molto freddo. Fa molto freddo. Çok sıcak değil. Non fa molto caldo. Non fa molto caldo. Zor. È difficile. È difficile. Kovay değil. Non è facile. Non è facile. Bu harika. È meraviglioso. È meraviglioso. Saat on bir. Sono le undici. Sono le undici. È ora che ti svegli. È ora che ti svegli. Sono interessato a questo libro. Sono interessato a questo libro. Arka da su. Olarac sana çok düşkönüm. Ti sono molto affezionato come amico. Ti sono molto affezionato come amico. Susadım. Sono assetato. Sono assetato. Aç değilim. Io non ho fame. Io non ho fame. Şu anda meşgul unsu. Sei occupato adesso. Sei occupato adesso. Corcarım. Ho paura. Ho paura. Beğenmeni sevindim. Sono felice che ti piaccia. Sono felice che ti piaccia. Öle yemeğine hazırım. Sono pronto per pranzo. Sono pronto per pranzo. Tenisteji. Io sono bravo a tennis. Io sono bravo a tennis. Saat kaç? Che ore sono? Che ore sono? 6 e 2. Che ore sono? Sono le 6 e 6. Sono le 6 e 6. Saat 7 bucuk. Sono le 7 e mezza. Sono le 7 e mezza. Beşi çeyrek geçiyor. Sono le 5 e un quarto. Sono le 5 e un quarto. Saat altı o iki var. Sono le 2 meno 5. Sono le 2 meno 5. Tamatamına saat iki. Sono le 6 e mezza. Sono le 6 e mezza. Saat altı otuz. Sono le 6 e mezza. Sono le 6 e mezza. Onlar kaç tane? Ne? Quanti sono? Quanti sono? Kaç tane çiçek var? Quanti fiori ci sono? Quanti fiori ci sono? Ne kadar pirinç var? Quanti fiori ci sono? Quanti fiori ci sono? Babaanne? Chi è tuo padre? Chi è tuo padre? Emin misiniz. Sei sicuro? Sei sicuro? Neden korkuyorsun? Di che cosa hai paura? Di che cosa hai paura? Saada. È sulla destra. È sulla destra. Solada. È a sinistra. È a sinistra. Evin önünde. È di fronte a casa. È di fronte a casa. Arabanın alt kassında. È dietro l'auto. È dietro l'auto. Araba ağacin yanında. L'auto è vicino all'albero. L'auto è vicino all'albero. Gömlegini çok hoş görünüyor. La tua maglietta sembra carina. La tua maglietta sembra carina. L'auto.